Ciao, sono il coronavirus. Io, a differenza dei miei amici batteri, non sono un organismo con un proprio metabolismo e ho bisogno di penetrare in un essere vivente per riprodurmi. Posso anche trasferirmi agli animali, ma tranquillo, cane e gatti non mi piacciono. Infatti, non posso essere trasmesso da loro. Per ora sto facendo incasinare il mondo e mi dispiace. Non so come farmi perdonare, per ora non c'è una cura. Ho proprio combinato un casino. Ho fatto chiudere le scuole, chiudere i negozi e non far rivedere più le persone, perché stanno nelle proprie case. Comunque, mi sento e mi suono. Febbre, tosse secca e mancanza di respiro. Adesso, per non far aumentare i contagi, ti dirò delle regole fondamentali a rispettare. Lavati molto spesso le mani con acqua e sapone. Mantieni la distanza di almeno un metro con le persone. Cobri naso e bocca se starnutisci, tossisci o sbadigli, con un fazzolettino o con l'interno del gomito. Resta assolutamente chiuso in casa e esci solo per ragioni importanti. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Contatta il numero verde, 1500, se hai sintomi. Non recarti in ospedale e chiama il tuo medico curante. Ciao, alla prossima! Aiuta medici e infermieri rispettando queste semplici regole. Iscriviti al mio canale! Ciao! Grazie a tutti.